Vola, 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 vola il blu umaya Vola, vola a terra, velocità straordinaria Con il suo gran touch, a ben due tocchi Quando premi, sembra, non ti ascolti Sì, ma com'è che adesso, ogni volta è una canzone Meglio andare avanti, vediamo la recensione Andiamo a vedere il contenuto della scatola Non l'avevamo fatto, l'unboxing standard qui su Mac iTech Quindi andiamo a vedere cosa contiene oltre al telefono Questa confezione che è di cartone come per il blu umaya max Ok, andiamo a rovesciare tutto qui sul tavolo Non c'è molto da vedere, a dir la verità Ok, abbiamo i soliti due manualetti La garanzia, vabbè, cina quindi non è praticamente garanzia E il classico quick start Abbiamo poi il cavetto USB, micro USB Quindi adotta ancora il vecchio standard micro USB E abbiamo il caricatore poi che è da 5V 1A Quindi ricarica piuttosto lenta Infatti già vi anticipo, batteria vi durerà circa una giornata Però per ricaricarlo, mamma mia che lento, oltre 4 ore Davvero molto molto lenta la ricarica Come vedete abbiamo un bel telefono di aspetto Intanto lo vado ad accendere, vi do le sue dimensioni Abbiamo una larghezza di 77 mm Un'altezza di 153 mm Uno spessore di 8.3 mm Ed un peso di 184 grammi Quindi non è proprio proprio leggero da tenere E soprattutto ragazzi è davvero molto scivoloso Penso uno dei telefoni più scivolosi che abbia mai tenuto in mano Vi scivolerà via velocemente Sono stati attenti dalle mani come un'anguilla Praticamente è davvero molto molto scivoloso Attenzione, comprate subito una cover Se non volete vederlo andare a terra a disintegrarsi Tra l'altro materiale abbiamo plastica dietro E freni laterali invece in alluminio La qualità costruttiva è abbastanza buona Si chiude bene anche la cover posteriore Vi faccio vedere cosa c'è qui sotto Abbiamo la batteria da 3000 mAh Eccola qui Che vi dicevo vi permetterà di affrontare una giornata Con un utilizzo medio Oltre a 4 ore di tempo di ricarica Abbiamo due SIM Due stand-by Una micro SIM e una mini SIM C'è il supporto 3G Quindi non c'è il supporto al 4G Abbiamo qui compreso anche lo slot di espansione di memoria Vedete qui vi danno il suggerimento Come si fa a inserire sia la SIM Che l'espansione di memoria Che ho provato fino a 64 GB E funziona quindi Espandibile la memoria interna Fino a 64 GB tramite micro SD Non c'è nient'altro da vedere Quindi vado a richiudere il telefono Chiusura Che è abbastanza buona Un po' difficoltosa Bisogna assicurarsi di premere bene Per far scricchiorare tutto il telefono In modo adeguato Ok l'abbiamo chiuso bene La chiusura quando è effettuata È buona Devo dire non dà particolari schicchioli È solida Quindi ottimo questo aspetto Bello la cover posteriore Con questo effetto 3D ormai classico di Blue Boo Guardate che belli i giochi di luce Che fa questa cover Davvero Un effetto diamantato Molto molto bello Dovrebbe essere anche P63 Meno così di chiara Il produttore Ossia resiste alla polvere Resiste a degli schizzi d'acqua Se provengono da Inclinazioni di un massimo Di 60 gradi Quindi praticamente ragazzi Meglio che non gli facciate vedere l'acqua Se non lo volete vedere Andare in fumo Praticamente Sul lato sinistro Abbiamo nulla Praticamente abbiamo visto Infatti che le SIM sono dentro Tutto liscio L'alluminio perfettamente pulito Sotto abbiamo la Micro USB Per andare a caricare il telefono Abbiamo una griglia puramente estetica L'autoparlante di sistema E il microfono qui a fianco Sul lato destro Abbiamo il bilanciere del volume Che vedete è doppio tasto E il pulsante di accensione e spegnimento Devo dire che sono molto simili i pulsanti Quindi si fa fatica a capire Se stiamo andando ad accendere il telefono O ad abbassare il volume Quindi questa cosa è davvero fastidiosa L'ho trovata non molto Confortevole Sopra abbiamo il jack da 3,5 Delle cuffie Mentre dietro abbiamo La fotocamera da 13 megapixel In realtà interpolati In realtà è da 8 megapixel La fotocamera Sony IMX219 Apertura focale 1.0 Però con alto focus E sotto abbiamo il flash led Non abbiamo nient'altro Se non il logo del produttore cinese BlueBoo Davanti invece abbiamo qui Il led di notifica Che non si vede Non abbiamo sensori di luminosità E prossimità Quindi non standard Sia quelli touch Dovrete proprio andare a toccare Il telefono Per fargli prendere la prossimità Abbiamo la capsula auricolare Abbiamo una fotocamera anteriore Da 5 megapixel Che poi interpolati Arriveranno fino a un massimo Di 8 megapixel Vediamo un po' cosa muove Questo telefono Ventico jack È il classico Sock Mediatek 6580 1.3 GHz 32 bit Abbiamo 2 giga di RAM 16 giga di memoria interna Quindi va un po' oltre Dei standard Dei telefoni entry level A 50 euro Abbiamo praticamente 1 giga di RAM in più E 8 gigabyte Di ROM interna in più Effettivi in realtà Sono 12 Gli altri sono utilizzati Dal sistema operativo Come vi dicevo Però espandibili Fino a 64 gigabyte Come sistema Abbiamo un marshmallow 6.0 Con qualche personalizzazione Da parte di Blue Blue Soprattutto per quanto riguarda Le icone e i temi Eccole qui I 2 giga di RAM E 16 giga di memoria interna Come batteria Abbiamo Vi dicevo Una 3000 mAh Nulla di che Andiamo standard Il comportamento E la durata del telefono Wi-Fi 802.11 BGN 2.5 GHz Non c'è la banda Dei 5 GHz Ovviamente Accelerometro c'è A prossimità Come vi dicevo C'è quello touch E luminosità Non c'è Quindi non c'è La luminosità Adattiva su questo telefono Come altre feature Troviamo La radio FM Si c'è C'è il GPS A GPS E praticamente Non abbiamo Nient'altro Davvero ai minimi termini Le caratteristiche tecniche Di questo telefono Per quanto riguarda I sensori Andiamo a vedere Come funziona la fotocamera Che già vi anticipo Non fa grandi foto Chiaro il telefono Costa circa 70 euro Lo potete acquistare su Amazon Vi lascio il link In descrizione Tipi di messa a fuoco Non velocissimi Facciamo lo scatto Anche qui ho preso Come il Blue Moon Maya Mac Vedete Ogni volta che tocco per scattare In realtà Prende appena fuori E va a mettere a fuoco Praticamente qua via E' una roba davvero fastidiosa Per non essere molto precisi Se no il telefono Con il cavolo Che vi scatta la foto Ok l'abbiamo scattata Avete visto Non velocissima La messa a fuoco I tempi di scatto Altrettanto Non veloci E anche qui Come il Blue Moon Maya Max Abbiamo questo effetto patina Nonostante qui abbiamo Luminosità praticamente perfetta Guardate Addirittura Il Blue Moon Maya Si rifiuta di fare Una bella foto Alla piramide Di Cicci Niza Mamma mia Per essere un Maya Sei un vero e proprio disonore Per tutta la categoria Chissà I tuoi antenati Cosa avrebbero detto Forse sei tu Quello che dicevano essere Il Millennium Bug Andiamo indietro Vediamo però Come scatta le altre foto Intanto vi dico Che la fotocamera E quella stock Mediatek 6.0 Non abbiamo Alcuna personalizzazione Abbiamo una interessante Applicazione Aggiunta da Blue Bull Si chiama Beauty Snap Vedete E questa qui Che si è aperta Qui davanti Potete andare A scattare delle foto E poi andare A fare Del make up Quindi andare A mettervi Dei baffi Aggiungervi Degli occhiali Ma anche farvi Dei veri e propri Lifting Miracolosi Ragazzi Oppure Andare a aggiungere Ad esempio Altri effetti Come cambiare I contrasti Eccetera eccetera Interessante Questa funzione Vedete qui Se c'è una faccia o meno Per andare A inserire Qui mettiamo gli occhi Sua piramide Cicci e Niza Ok Vedete Abbiamo fatto proprio Un bel lavoro Adesso lui proverà A inserire i baffi Ad esempio Possiamo andare A inserire dei baffi La piramide Cicci e Niza Ovviamente Adesso non ha Alcun senso Un fiocchettino Vedete Quello vi dicevo Potete andare a montare Delle decorazioni Sulle vostre foto Quindi potrebbe essere Una cosa davvero simpatica Peccato però Che la fotocamera Non renda giustizia A questa Applicazione Andiamo a vedere Infatti le foto Che abbiamo ascoltato Durante la settimana Di utilizzo Partendo dalla nostra Colazione golosa Qui la foto È venuta abbastanza bene C'è sempre questa patina Che dà un po' fastidio La foto di per sé Non è malissimo Diciamo per un telefono A 70 euro Ci può anche stare Macro invece Molto discutibile Non mi sono trovato Affatto bene Ci sono altri telefoni Della stessa categoria Di prezzo Che fanno foto migliori Per quanto riguarda le macro Qui abbiamo una foto Fatta con HDR Qui la foto Senza HDR Vedete le differenze Vedete anche gli alberi Come poco definiti Siano Anche il livello Del dettaglio La foto Non è sicuramente Ottimale Di notte Le foto vengono Molto rumorose Insomma Una fotocamera Sicuramente Non definibile Sufficiente Al 100% Vi diamo una pena Sufficiente Perché Consideriamo Il costo del telefono Andiamo a vedere Velocemente Anche come si comporta Il display Partiamo dal bianco Direi che il bianco È classico IPS Abbiamo 5.5 pollici JDI HDTFT A 2.5D Di lavorazione Quindi leggermente curvo Sui lati E come sempre Abbiamo il classico effetto Grigiore Quando andiamo a inclinare Un po' Il telefono Direi che però In linea generale Il bianco È buono Così come i contrasti La griglia dei pixel È prodotta Davvero bene Fedelmente Anche qui Se andiamo a inclinare Il telefono Vedete come virano Soprattutto quando Andiamo a inclinare In orizzontale Vedete come vanno Un po' A virare i colori Mentre in verticali Diciamo È leggermente meglio Non molto Ma leggermente Però sicuramente Passabile Qui la nostra Griglia di centratura Che è praticamente Perfetta I nostri contrasti Anche qui il nero Vedete ha il solito problema Diventare un po' grigio Quando lo andrete A inclinare Ma insomma In linea di massima Devo dire Un display Sicuramente sufficiente E che mi è Piaciuto Considerando anche appunto La fascia in cui si va A collocare Questo telefono Display che non è Molto oleofobico Come potete vedere Vediamo se vi faccio vedere Se riesce a mettere a fuoco Non riesce a mettere a fuoco Troppo bianco Vedete però Quando vado a accendere Si possono notare Le cornici Che sono di Un paio di millimetri Abbastanza fastidiose Devo dire Soprattutto il bianco Non le va a nascondere Anzi Le mette in risalto La cosa peggiore Di questo telefono Per quanto riguarda Display e touch È sicuramente Il supporto A due tocchi solamente Quindi quando andrete A scrivere velocemente Perderete per strada Molte lettere Cosa davvero fastidiosa Che mi ha fatto Odiare questo telefono Molte volte Quasi Tirando delle imprecazioni Praticamente Non mi è piaciuto affatto Il touch and fill Di questo telefono Anche se poi In linea generale Il telefono funziona Molto bene Per quanto riguarda L'apertura delle applicazioni Multimediali Infatti Andrei a aprire subito Il gestore delle pagine Di facebook Così vediamo anche I tempi di apertura Ovviamente è chiaro Non velocissimo Stiamo pur parlando Sempre di un telefono Entry level Guardate però Quando è caricato La fluidità è buona Però se andiamo A scrivere qualcosa E magari non so Andiamo a dire Ciao a tutti Come ciao a tutti Mamma mia ragazzi Qui si è un po' Partito proprio male Ciao a tutti Come state La vita Come vi va Insomma Adesso sarò anche Dietro la telecamera Quindi faccio fatica Magari a prendere La tastiera bene Però vi garantisco Che l'effetto Più o meno È sempre questo Quando andrete a scrivere Troppo velocemente Quindi bocciate Sicuramente la scrittura Su questo telefono Un telefono Che magari potrebbe andare bene A chi non scrive velocemente Però con la tastiera O non gioca A giochi troppo complessi Che richiedono Un touch and fill veloce Andiamo a vedere adesso Come si comporta Nell'applicazione del browser Con internet Qui siamo collegati In wifi Wifi che prende Davvero bene Anche in tutta casa Non ho avuto problemi Come il segnale radio È sì buono Anche dentro casa Non ho avuto particolari Scontri negativi Anche se devo dire La qualità in capsula Non è assolutamente buona È un po' alta Gracchiante Un po' disturbata Non ho sentito mai Davvero bene in capsula Invece dall'altra parte Il telefono Mi hanno sentito bene Volume in via voce Che andremo a sentire Fra poco Con la nostra telefonata È abbastanza alto Ma non buonissimo Ok Intanto andiamo a vedere Il browser Comunque vedete Quando ha caricato Funziona bene Ovviamente Il rendering della pagina È posticipato Per permettere Una fluidità maggiore Soprattutto Con lo scroll rapido Vedete però Quando si ferma Diciamo È abbastanza reattivo Pintu zoom A due dita Sì Non sufficiente ragazzi Non posso dire che è sufficiente Posso anche considerare Il costo del telefono Però Non mi sento di dire Che il touch to fill E il pin to zoom È buono Comunque per navigare Per un utente normale Diciamo E non smanettone È abbastanza buono Quindi direi Sufficiente Anche in questo caso Andiamo a vedere La music appunto Vi dicevo Parlavo dell'audio Vediamo come suona Il telefono Ok Siamo al massimo Avete sentito anche voi Audio non buonissimo Per quanto riguarda L'autoparlante di sistema Non mi sento di dare La sufficienza Da questo punto di vista Al telefono Andiamo a effettuare La chiamata Il 190 Così sentiamo Anche come si comporta In modalità viva voce Ok Magari se Vado a prendere Il tasto giusto Mi sono trovato Parecchie difficoltà Con il tasto di questo telefono Ogni volta Premo e mi parte Qualcos'altro Come se sbagliassi Il punto esatto Di pressione Del display Audio avete sentito Sì Abbastanza buono Però anche in questo caso Abbastanza disturbato Abbastanza più abbastanza Sia nulla Quindi come se non l'avesse detto 40.000 volte Abbastanza ragazzi Direi che ne ho abbastanza Quindi andiamo avanti Proviamo le nostre applicazioni Abbiamo visto il gestore Delle pagine Magari guardiamo anche Twitter Quanto ci sta ad aprirsi Avete visto Non male per essere Un telefono di fascia bassa Quando è caricato Si comporta anche bene Vi dico Anche con Facebook Non avrete problemi Si ci sta un po' a partire Però quando parte Poi non ho notato Particolari L'arrendamenti La micro SD È possibile utilizzarla Come memoria principale Non è possibile Però andare a spostare Singulari applicazioni Sulla memoria esterna Quindi o utilizzate Come memoria principale O nulla Andiamo un po' a parlare Delle sue caratteristiche Costruttive Come vi dicevo La frena laterale È in alluminio Ma è davvero Molto molto delicato Guardate qui Mi è scivolato Dal comodino È caduto sul palchè di legno E guardate che disastro Una botta qui Una botta qui Insomma il telefono Ha già perso Il 50% del suo valore Quando lo andrò a rivendere Mamma mia È nervoso ovviamente È salito alle stelle Già di primo mattino E anche display Che viene decantato Come Gorilla Glass 3 Anche qui guardate Mi sono trovato Con questa piccola scheggia All'interno del display È una cosa proprio sotto il display Non è esterna Non so neanche come sia potuto succedere Sono stato molto attento Nell'utilizzo di questo telefono A non farlo cadere Visto che avevo già visto La sua fragilità L'ho sempre utilizzato Nella sua custodia Che ho comprato apposta Ma nonostante tutto È andato a rovinarsi In maniera piuttosto pesante Quindi davvero Non mi è piaciuta neanche Questa cosa Su questo Blue Blue Maya Max Molto 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 delicato Il led di notifica Qua in altro È verde o rosso Almeno io l'ho visto Sempre di questi due colori Non ho visto mai Altri tipi di colori È possibile andare a notificare Quando accendere il led Attraverso le opzioni Easy Light Eccola qui Vedete Potete andare a accendere il led Quando avrete ad esempio Il telefono con un livello Di carica piuttosto basso Oppure ad esempio Quando avrete Delle chiamate In sospeso A cui non avete risposto Torniamo indietro Le altre opzioni Sono quelle standard Mediatek 6.0 Android 6.0 Non abbiamo particolari Cose o novità Qui abbiamo il numero Di Bill Village Ci sono le gesture Per il doppio tap Ad esempio Per risvegliare il telefono Quando è in stand by Non funziona benissimo Ogni tanto manca Il doppio tap Anche qui non reattivo Probabilmente sempre dovuto Al supporto A solo i due tocchi Che non vengono presi mai In maniera molto buona GPS GPS Sì c'è ovviamente Il GPS Però non funziona Anche bene È lento A fixare i satelliti E anche un po' scarso Come qualità Di segnale Soprattutto come precisione C'è la radio FM Insomma Un telefono Che gira bene Non posso dire Che non giri bene Non ho mai avuto Particolari lag O scatti Sì ovviamente Qualche volta Si è impuntato Ma ci sta tutto La gestione della RAM Comunque è buona Qui c'è la possibilità Di andare dentro Nel task manager Chiudere tutte le applicazioni Con un semplice tocco Sul cestino Non è un telefono Adatto a giocare Questo Blue Boom Maya Quindi ce lo ricomprerei No io non lo ricomprerei Personalmente Come già vi dicevo Durante la recensione Il touch Non mi è piaciuto affatto Quindi non posso consigliarlo A tutti coloro Che scrivono velocemente Con le dita Ad esempio Su Whatsapp Telegram O Facebook Potrebbe essere Una valida alternativa Invece per tutti coloro Che scrivono lentamente Anche se Obiettivamente A 70 euro Sul mercato Si trova di meglio Di questo Blue Boom Maya Un esempio Beh posso citarvi subito Luansa 101 Che abbiamo recensito Qualche settimana fa Qui su MacAiTag Vi lascio il link In descrizione Sperando che la prossima Profezia Maya Ci porti qualcosa Di decisamente migliore Un saluto da Matteo Per MacAiTag Ciao Blue Boom Ciao Blue Boom